Le capillere sopra di voi sono riservate solo a trolley e bagagli voluminosi. Tutti gli altri effetti personali come zaino e porta-computers vanno posti sotto la voltrola di fronte. In caso di necessità non esitate a contattarci. Grazie. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard this flight to Milan in Atioport. This is the boarding operation.